La pasticcia ha tanti generi in musicale, è comunque un progetto internazionale, ho fatto molto rock, hip hop e ci sto mettendo tutti questi sapori dentro, ognuno noi ci mettiamo proprio la nostra propria voce insomma. Giulia Mani è il brano un po' di punta del nostro disco dal punto di vista del tema, è Ecologic Welder, una logica eco, ecologica, c'è un piccolo gioco di parole in inglese, che cerca di lanciare dunque questo progetto sul tema della preservazione dell'ambiente e del mondo che abbiamo sfruttato, ultra sfruttato in questi ultimi anni, decenni e noi vogliamo contribuire cercando di dire ai giovani che devono curare questa terra, curare il mondo in cui vivono e sentirlo loro, rivendicarlo da coloro che lo sfruttano e lo maltrattano. che ruminano e inquinano, la linfa che nutre il nostro futuro, più grigio del fumo che respiriamo. Ma c'è un'altra via, dobbiamo credere, nelle persone come noi, che vogliono cambiare questo sporco mondo. Pastiche Melting Pot Music rappresenta l'armonia della diversità negli stili e dei popoli. Giù le mani dall'oro blu, giù le mani dall'energia, giù le mani dal tesoro dei nostri figli che irradiano amore. Pastiche Melting Pot Music rappresenta l'armonia della diversità negli stili e dei popoli. Pastiche Melting Pot Music rappresenta l'armonia della diversità negli stili e dei popoli. Pastiche Melting Pot Music rappresenta l'armonia della diversità negli stili e dei popoli. Grazie a tutti.